Anche un rappresentante dell'amministrazione comunale ha già fatto il bagno. Ho ricevuto specifica delega da parte del sindaco per potermi buttare il nome suo e di tutta l'amministrazione. Davvero un'altra bellissima giornata qua ad Andorra, iniziamo con questo cimento. Questa giornata vuol dire molto, qualche settimana fa queste spiagge erano devastate da una grossa mareggiata e invece quest'anno iniziamo il 2019 proprio qua a testimonianza che Andorra e tutta la Liguria sta ripartendo. Un grazie davvero al Tortuga Bici e a tutte le associazioni bagni marine di Andorra, al Circolo Nautico, alla Proloco per questa giornata veramente indimenticabile perché questo sole, questo mare non ce lo dimenticheremo per un po' di tempo.